In questo video esaminiamo le origini di Iron Man, Anthony Edward Stark, cognome prima dell'adozione sconosciuto, è un inventore e ingegnere che inventò la sua armatura durante una guerra in Vietnam. I suoi genitori biologici sono Jude, dal quale è sconosciuto il cognome, e Amanda Armstrong. Inoltre Tony Stark è nato a Sofia, in Bulgaria, facendolo effettivamente bulgaro. E il suo segno è gemelli. Inoltre anche se Jude è un agente dell'IDRA, organizzazione nemica di Capitan America, Tony nei fumetti ha problemi di alcolismo. Pensate veramente che il cognome di Jude non verrà mai rivelato? Scrivetemelo nei commenti. A presto!